Musica Ciao a tutti ragazzi, sono Sturo e oggi siamo in questo video speciale Ci troviamo alla scuola superiore Magliorania di Seriate In cui si terrà un torneo di Counter Strike Surs Questo è il primo laboratorio in cui faremo il torneo Spostiamoci E il secondo Che cazzo inquadri? Uuuuh È ok Inquadra me, sono io che devo essere Ma da dietro, da dietro che ci sta mega Infatti va dietro Scusate, è per YouTube Sono squadre da 5 Se avete qualche preferenza mettetevi già copiati Oh, una squadra a caso Adesso stiamo facendo le squadre Poi inizierà il vero torneo Un po' più Un po' più Un po' più Un po' più Sù Poi Poi Sì Terza squadra a farlo Andate la vertocatore di fronte Un po' più Un po' più Un po' più Poi c'è un po' più Quindi Maria 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 Marco Un'altra squadra, da solo, qualcuno che è in quattro, una squadra di quattro, quattro, quinta squadra fatta, il nome della squadra? Questa è la squadra, queste sono le squadre. Allora, al mio tre fate un urlo, va bene? Uno, due, tre, tutti per l'interno di Counter-Strike! Intervista a un player, impressioni a caldo, perderò. Impressioni a caldo nel torneo? Vincerò io, vincerò io. Impressioni a caldo sul torneo? Bello. Bello. Per ora no. Devo per iniziare. Infatti. Nemro parla. Dov'è appena iniziato? Ma adesso si va bene, adesso si va bene. Chi va bene, penso in tutto. Chi lo vincerà? Non noi, di sicuro. Non loro, di sicuro. È la prima volta che gioca il Counter-Strike. Suo canale in descrizione. Notiamo cosa è scritto qua, alla mia destra. Non miscarsi e agire con prudenza quando si compiono lavori che presentano pericoli. Non scambiare la temerità per il coraggio. Allora, che squadra siete voi? Virtus.pro. Virtus.pro, quindi giocate adesso. Sì. Come andrà? Questo vediamo bene. Spera bene. Spera bene. Voi che squadra siete? Liquid. Liquid. Tutti voi cinque? Sì. Siamo qua con un 100% Terrone che fa fotografie e fa una foto al video. Bella. Nice. Fammi fare una panoramica tutta la classe, l'aula che poi passiamo più tardi mentre fate il torneo. Un saluto per YouTube. Buongiorno. Prima partita del torneo per la squadra QR, la mia. Allora, impressioni per il nostro quinto membro preso di fortuna. Ciao YouTube. Ciao YouTube. Ora vinciamo. Ora vinciamo. Spero. Vediamo. Non me lo installo. Sono il tappetino da ProGamer. Sto fatto miei fratelli. Impressioni sulla prima partita? Non c'ero la prima partita. E che è questa la prima partita? Non c'ero la prima partita della... Ah no, c'ero la prima partita serie. Buono. Se riesco a trovare modo di strecciare sta merda... Allora, diciamolo. Mi domande di merda, eh? Ovvio, diciamolo. Grazie a piedi. Mi ha messo in un'altra casa, ma non c'ero la prima partita di servizio. Ma che ha provato la casa? Cioè? Com'è? Quindi chi ha... Impressioni sulla parabilità? Come finirà? Penso bene. Perché sto modificando tutte le robe. Guardate. È mega config. Il 1024, 4 terzi. Non ce la sta ricercando? No. Si spera nella vittoria. Ma che si spera? Noi ci rivediamo appena... La prima partita. Questa fratti. Più... Nel privé. Nel privé. Bella. Siamo qua. Per la partita. C'è il pubblico... Poma! 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 Partita del torneo. Pou-nata. Pou-nata. Vi ha vinto tutto rispetto. Ci siamo qualificati per la semifinale. DCS. Con una vittoria. Con una vittoria del 18. E adesso... Adesso che metto i nomi, stai che metto i nomi in corso il 100. Adesso mettiamo gli sponsor. Ma si metto Poma come sponsor. Ti metto Poma. Per notare la mia maglia swag prestata... Scusa Grazie, grazie Ci sembra lungo a finire La semifinale Semifinale veloce però Eh aspetta Allora Cannone semifinale Se no non finiamo il torneo Mouse swag Ok vai Ci rivediamo appena riesco a fare video Guarda come mi chiama Guarda come mi chiama Tappo Oh vabbè Guarda come mi chiama io Guarda come mi chiama io Come si chiama? Come si chiama? Bella siamo in finale Commentatore ufficiale E primo supporter di Stulo Comunque siamo in finale Mi chiama adesso la finale Faccio il clacerino Solo Wanta Il suo commento di questa prima parte di grande torneo È solo Wanta Allora siamo qua Finito il torneo di CS Nessun vincitore Nessun vincitore Ci hanno sfrattato Ci hanno vinto Salute a Dan Pie Ma che posso vincitere? Li abbiamo arati per parlare Ci hanno sfrattato ed infame Sì ma li abbiamo arati Cazzatele La gloria è l'importante Abbiamo vinto noi Abbiamo vinto Avremmo vinto Ciao a tutti Ciao a tutti Aspetta da iniziare io Finito il torneo Ci ritroviamo qua con il clacerino E una che abbiamo trovato per strada Oh vaffanculo Non è vero E cambia Perché guarda stiamo parlando adesso Cambia Ma tanto poi lo taglio No lo rifai subito No lo tengo invece Stavo mangiando le piadine E commenti sulla piadina Buona 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 Ha detto che ha avuto un orgasmo per la piadina Le sue parole Commenti sulla piadina Buona 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 La dirrellatina Ok siamo con Sturo La dirrellatina E con P0MA Ci rivediamo In un prossimo video Bella